Bentornati, oggi parleremo dell'Italia post bellica, ovvero l'Italia sotto durante il secondo dopoguerra. Ora, dopo la fine delle ostilità, la scena politica italiana dell'Italia, cioè post bellica, a seguito della conclusione del secondo conflitto mondiale, fu animata dall'attività di alcuni partiti, di alcune forze politiche. Le principali erano sicuramente la democrazia tristiana, che era nata alla fine del 1942 dall'incontro dei vecchi esponenti del Partito Popolare di Don Sturzo, con elementi informatisi nell'ambito dell'azione cattolica. I punti principali, i cardine qualificanti dell'agenda politica della democrazia tristiana erano l'adesione al blocco occidentale, il forte ecclesiastiche, ma anche un'attenzione al mondo contadino, alla realtà rurale e anche in parte la rivendicazione di una maggiore giustizia sociale. Poi abbiamo il Partito Comunista, che era riuscito a sopravvivere durante la tirannia, la repressione e il ventennio fascista, svolgendo la sua attività sia clandestinamente che all'estero e che era fortemente radicato nella classe operaia e ad anche in alcuni settori della realtà rurale. Poi il Partito Socialista, il Partito d'Azione, che era stato fondato in anni più recenti, nel 1942, dalla riunione di ex militanti del Movimento Giustizia e Libertà, e che mirava la ricostruzione dell'Italia su basi nuove, diverse da quelle precedenti e in diretta rottura con gli eventi immediatamente precedenti. A questi partiti poi si ne univano altre due, altre due formazioni sicuramente minoritarie e di minor consistenza. La democrazia del lavoro di Bonomi, che era un partito di ispirazione democratica progressista, da seguito molto modesto, e che si sarebbe sciolto di lì a poco già nel 1948. E il Partito Liberale, che sempre definendosi antifascista, si attestava su un problema liberale piuttosto conservatore tradizionalista. Al di fuori del CLN, cioè dei partiti che avevano costruito il Comitato di Liberazione Nazionale, si agitavano altre forze più vicine alla destra reazionaria, se non addirittura filofascista. Questo è il caso, ad esempio, dell'Uomo Qualunque, un movimento che era sorto nel 1944 intorno alla figura del giornalista Guglielmo Giannini, e che nel 1946 invece si era trasformato in un partito, il fronte dell'uomo qualunque, e che sosteneva un'ambigua linea politica caratterizzata soprattutto dall'insofferenza per l'antifascismo, caratterizzato anche da un deciso anticomunismo. Allora divenne ben presto il centro di allegazione degli scontenti e dei nostalgici del passato regime. Tuttavia, pur avendo ricevuto un incredibile e inaspettato successo elettorale nelle elezioni del 1948, rapidamente il movimento poi si sconfiò e i suoi aderenti confluirono o nel partito liberale italiano o nei movimenti monarchici, mentre i nostalgici del fascismo avevano già trovato sin dal 1946 una nuova sede, una nuova localizzazione, una nuova organizzazione nel partito neofascista, ovvero il movimento sociale italiano. Ora, all'indomani della liberazione, il 21 giugno 1945 si costituì il primo governo italiano post liberazione che venne presieduto dall'azionista Ferruccio Parri, che era un attore, un personaggio del partito d'azione. Ora il governo Parri si trovò chiaramente a dover gestire la difficile transizione dalla monarchia alla repubblica, o, per meglio dire, dal fascismo ad un governo, primo governo libero. Tant'è vero che, secondo gli accordi di pace con gli alleati, l'Italia avrebbe dovuto essere restituita al governo italiano perché l'amministrasse liberamente. Tuttavia, il progetto politico che venne portato avanti da Parri non convince del tutto gli alleati, tant'è che questi ultimi tardarono la restituzione dei territori per l'amministrazione, la normale amministrazione all'interno dello Stato. Anche perché Parri proponeva un modello ampiamente decentrato dell'amministrazione pubblica in decisa rottura con lo Stato centralizzato, sostenuto ma dato avanti dai fascisti, ed anche sosteneva il bisogno di portare a compimento il processo di epurazione di tutti quei personaggi che si erano compromessi con il precedente regime, la rimozione da tutte le strutture pubbliche di uomini e donne che erano compromessi con il fascismo. Un'operazione che poi, come vedremo, non venne portata avanti e venne sostituita da un'ipotesi invece di continuità. Tuttavia le difficoltà che il governo Parri dovette subito incontrare portarono nel giro di pochi mesi alla prima crisi di governo e la stonfitta del governo del progetto Parri venne anche percepita come la fine della resistenza, ovvero come l'inizio, l'inclinamento della solidarietà dei vari partiti democratici antifascisti all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale. Il governo Parri fu così costretto a dimettersi nel novembre dello stesso anno, cioè nel novembre del 1945, e gli succedette un governo preseduto dal Cile De Gasperi, che era leader del nuovo partito della democrazia cristiana. In discontinuità con Parri, De Gasperi, già nei primi mesi del 1946, sostituì i Comitati di Liberazione Nazionale Locali, che con Parri sotto Parri avevano esercitato delle attività amministrative di amministrazione locale con dei funzionari statali, ripristinando in questa maniera le istituzioni legate al vecchio Stato liberale prefascista. Inoltre De Gasperi promosse un clima di pacificazione nazionale. In questo ha secondato anche da Palmiro Togliatti, leader del Partito Comunista, il quale in qualità del Ministero della Giustizia, il Ministro dei Guardia Sigilli, nel giugno del 1946 firmò un'amministrazione per i crimini politici e militari. E quindi l'epurazione di tutti i personaggi, di tutti gli uomini, di tutte le donne che erano compromessi, che si erano compromessi con il regime fascista non venne assolutamente portato a termine. Ed anzi, questi personaggi, se gravitavano all'interno dell'organigramma statale, transitarono automaticamente nei ranghi del nuovo Stato italiano, del nuovo Stato democratico. Alla prossima!